Inquinamento del Venafrano, gli sforamenti da polveri sottili nella piana di Venafro nel solo 2021 sono stati circa 40. Un dato allarmante che giustamente sta destando la preoccupazione dei cittadini della zona e almeno a parole di tutta la politica molisana. Ma per i 5 stelle il pressappochismo del governo regionale nell'affrontare il problema dell'inquinamento è una costante e insopportabile. Nei giorni scorsi, dicono i portavoce pentastellati alla Regione, abbiamo presentato una nuova interrogazione in Consiglio richiamando ancora una volta i problemi irrisolti con l'approvazione del PRIAMO, piano regionale integrato per la qualità dell'aria in Molise. Già a gennaio 2019 infatti il piano che arrivò all'approvazione della Sise regionale era vecchio e incapace di produrre effetti reali. Il piano che dovrebbe dirci come migliorare l'aria in Molise in sostanza alle armi spuntate. Nonostante una manifesta indifferenza del governo regionale le mamme per la salute si sono fatte promotrici di uno studio epidemiologico avvalendosi del supporto scientifico del CNR di Pisa. Noi per primi, sottolineano i 5 stelle, abbiamo creduto nella bontà di questa indagine raccogliendo 10.000 euro delle nostre restituzioni per finanziarla. Aggiungiamo che ad aprile dello scorso anno il ministero della transizione ecologica ha scritto a diversi enti territoriali compresa la regione Molise per informarli sul nuovo fondo da 220 milioni destinato a interventi per migliorare la qualità dell'aria. Le regioni interessate avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse e segnalare le priorità di intervento. Il Molise ha fatto qualcosa, chiedono i grillini regionali. Fin qui i 5 stelle. C'è poi Stefano Buono che continua a battere sulle carenze regionali e sulla mancanza di reale informazione sui motivi dell'inquinamento. L'inquinamento c'è, lo rilevano il continuo sforamento delle polveri sottili del PM10 e del PM2,5 in determinati periodi dell'anno e tuttavia il grande problema è che non abbiamo la regione che riesce a fare tutte le analisi che le altre regioni fanno per darci un quadro chiaro che ci indichi con esattezza quale sia il fattore inquinante che determina questi sforamenti.